Qual è l'entusiasmo che si respira nel sud su questo progetto di Matteo Salvini? C'è tantissima partecipazione, entusiasmo, parlo per tutto il meridione e io che ho verificato, si può dire punto per punto, città per città, la Sicilia, vedo che c'è molta attenzione e molta partecipazione. Di che cosa ha bisogno la Sicilia in questo momento? Ha proprio bisogno di quello che dice Matteo, ecco perché aderiscono a questo progetto, perché finalmente vogliono riscattare la propria autonomia, ritrovare la dignità del proprio lavoro e impegnarsi nel sociale. Fino adesso, come ha detto giustamente Matteo Salvini, non siamo stati rappresentati da politici degni di darci una classe dirigente organizzativa, capace di poter far valere i nostri diritti. Fino adesso si è stato chiesto come diritto al lavoro, lo Stato ha risposto come assistenza. E questo ha offeso anche la dignità delle persone, dei lavoratori, che invece siciliane hanno tanta voglia di dimostrare quanto valgono, dico i siciliani e tutto il meridione, per riportare l'Italia in un binario giusto anche di rapporto lavoro-dignità. E in modo particolare avere una propria attenzione giusta e una visione giusta di un'Europa che sia l'Europa delle regioni.